Dostoevsky, le notti bianche. Non siamo qui però per parlarvi di letteratura, ma proprio delle notti bianche, cioè di quel particolare fenomeno per cui alle elevate latitudini il cielo, in determinato periodo dell'anno, non diventa mai buio. Sono le latitudini delle capitali nordiche, San Pietroburgo, Stoccolma e anche Vilnius. È un'occasione molto interessante per scattare delle belle e inconsuete fotografie. Marina ci ha mandato alcune immagini della notte bianca di Vilnius scattate ieri sera, 22 maggio 2013. Vediamole assieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.